Rai se non puoi mangiare i bolli, i titoli, i titoli, i titoli queste cose qua, allora dovrebbe arrivare anche dopo lo schiaffeggiato e e Simone, e Simone ti può contestualizzare lo schiaffeggiato o non? Diego Lassi e Chris Rock Vabbè, io qua ragazzi, entra Diego io faccio entrare gli ospiti perché poverini Ah, Diego l'ho schiaffeggiato? L'ho schiaffeggiato? Sì, ma non vorrei parlare di questo con Diego mi faceva piacere che entrasse un attimo L'hai detto tu prima Scusa, ma scusa, guarda Prima era appropriato, adesso non più, è così è la magia, è la magia No, no, ok, sta arrivando Vabbè, ma non parliamone e aspetta Guarda, ti chiedo scusa Adesso voglio sapere io di cosa stiamo parlando È un problema fare a Ah, contava 10 minuti ancora No, 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 no Mi sono frainteso E da solo Dai solo Non parliamone quando arriva lui di questa cosa Capito? Ah, possiamo via Alle spalle si può dire tutto Esatto Ah, ok, ok Minore di tre grazie gabbro posso dirti una cosa dica ma ma facciamo un gioco quando lui è dentro di inserire la parola schiaffo nelle discussioni in maniera tale che non se ne accorga cioè tipo hai visto ogni volta che uno di noi dice schiaffo vince un punto e uno deve tenere deve tenere conto ma anche contestualizzato se diego ride e capisce che stiamo facendo questo gioco è finita ma anche metafore anche sinonimi anche si nome schiaffo cefone 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 schiaffo però è bello schiaffo bello viene beccato perde tutti i punti quindi ci sono dei vincitori però c'è solo ci sarà solo un perdente ok 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 ciao diegone io sono uomini posso presentarti presenti presentano io mi chiamo uomini ciao mamma brutto ramo mi non so il perché è qua e è un po una critica rospo ah è vero sì 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 da un anno dal 2022 sì mi ricordo ora ora non fa più niente rospo però rospo faceva quel format che andava in giro che ogni tanto faceva schiaffi giusto ce n'è stata una che è stata più più gentile diciamo che momi ne abbiamo chiamate 45 è arrivata proprio schiaffo subito non so se fare come cv che tutti usciamo ma no e rimaniamo qua ti possiamo far entrare la vera sorpresa se c'è ciao a tutti che vuoi tantissimo bene e sono anche davvero commosso e voglio bene anche a tutti forse con Kanye West con Asapro che quando vengono a Milano mettono magari una storia di qua ma è lì quello è il cane dell'olocausto nucleare è Dobby fai vedere Dobby sì però da quanto da quanto l'ha pagata sembra un po uno schiaffo alla povertà è qua è un cane quanto l'ha pagata è un cane è un po uno schiaffo alla povertà no no è un bellissimo cane molto educato tra l'altro a breve avrò ad a che fare con lui i problemi nel mondo da risolvere ce ne sono volendo ce ne sono tanti vero la fame sì ma io ce l'ho vai allora momi dimmi allora quelli di Pisa preferiresti abolire le tasse o passare una giornata intera con Samara? rispondi bene momi io direi su Samara su Samara che le puoi da chi ci vede ma le tasche ma che ci frega le tasche commercialista ringrazia comunque tra Samara, Brisida e Elisa Esposito no 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 Sara Esposito Sara scusami Sara Esposito Esposito è l'altra io direi su Samara che c'è oggi che io l'ho vista ieri che io l'ho vista ieri che faccia da schiaffi no va a Fabio io ricordo diverse risposte momi non voglio metterti in difficoltà Samara possiamo dire un saluto a chi vuole bene momi è uno schiaffo agli altri stronzi è diciamo e vabbè uno schiaffo alla stronzità no scusami no che ti piace come si può dire le ragazze che che stimi esatto che stimi e blocchi fuori da prendere schiaffi insomma esatto Anita Max e c'era un'informazione in merito alla festa della donna che era anche curiosa che è tutti i giorni senti momi la festa della donna è tutti i giorni posso farti una domanda vai le donne non vanno prese a schiaffi momi ah io so io so io voglio tantissimo bene insomma a tutti io sono leggenda no ha visto ha visto ha visto soltanto anche il film e di tutti anche di tono futuro visto anche in televisione ma bismith è quello degli oscar che ha tirato lo schiaffo no ma non è bravissimo no ma roba vecchia non so non ci resta che piangere amici miei faccia dati capi dimmi dimmi dei filiani settati aspetta ah mi sono indicato l'ennesimo schiaffo onorale cioè complimenti aspetta aspetta lo chiamo dobbini qua eccomi oh eccolo ah eccolo qua ma che poverino lo stava schiaffato là tutto comodo io vi ringrazio a tutti tutti quanti che ci sono guardando anche per me io li voglio bene che anche mi voglio bene soprattutto diciamo volevamo sapere cosa vorresti fare cioè tra qualche anno anche magari tramite i social se hai idea di fare qualcosa se hai un format in mente se hai una passione una cosa che io vorrei fare anche il content creator come fanno tutti quanti ma scusami esatto stai facendo bene perché lui intanto conosce gente crea un network poi quando ha un'idea va da un produttore boom schiaffa sul tavolo l'idea senti io voglio fare questo e ha anche già tutta la compagnia no no fanno interviste di vario tipo non mi conoscono anche giusto di cose anche chris anche chris io vorrei trovi uno di quelli che ti tirano uno schiaffone in bocca vabbè dipende da quello che gli dici si devi essere gentile però può essere pericoloso Milano allo schiaffo non ci arrivi ma Victor sei mutato mi sa ciao ragazzi ciao Diego quando è quando è che lo spoiler Diego a settembre ah a settembre ok niente ciao schiaffoni belli ciao 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 Rubì ciao ciao Rubì e momi ti posso fare ah se andai pure tu ciao Diego no io sono qua sono qua grazie mille a Diego grazie mille sono pronti a fare eh speri rifallo rifallo grazie mille e momi ora siamo tra di noi è ufficialmente finalmente finalmente inizia la live bravo Fabio bravo Fabio ha vinto siamo noi di un avversario veramente veramente tenace c'era un fanta ma Victor sta a 88 ma questa cosa è il punto di giro sono tipo tutta la via che sto cercando di capire posso posso dire una cosa questo è un gioco che io faccio in tutte le riunioni in videocall con anche i brand importantissimi lo faccio sempre con questo tema no 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 ma in cosa consiste esattamente però la parola nascosta sono insulti razziali no 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 non per questa live questa è stata un'altra la parola nascosta però mi immagino l'abbiamo mai detto del regalo ok